Con un progetto concreto e condiviso saranno le aziende agricole stesse a rientrare nel consorzio dei vini dell'Oltrepo. Tuttora rischio di perdere dopo anni l'erga omnes ovvero il diritto di riscuotere un contributo per ogni bottiglia prodotta sul territorio. Parola di chi come Ottavia Giorgi Vistarino, Roberto Lechiancole, Tenuta Travaglino e Giorgio Perego appena ha lasciato lo storico ente di tutela. Si esce per ricostruire ma partendo da un progetto condiviso. Come dire che se trovare soluzioni all'interno del sistema impossibile forse è meglio cambiare il sistema stesso. Quando ha pronunciato questa frase durante un incontro in Polonia a dicembre l'eroina bambina dello sviluppo sostenibile Greta Thunberg pensava al futuro del mondo e non certo alle beghe infinite ed estenuanti dell'Oltrepo del vino. Eppure sembrerebbe proprio questo il senso di questa nuova ma significativa diaspora di aziende dal consorzio, cambiare prospettiva e pensare prima a un progetto che parli di territorio e qualità e poi a chi lo dovrebbe mettere in pratica. Non pensiamo assolutamente a niente di sovversivo o a costituire altre realtà alternative. Noi crediamo nel lavoro della regione e crediamo nel lavoro delle potenzialità e nella necessità di avere un consorzio che ci rappresenti. Però visto che per tanti anni non ha funzionato è molto difficile oggi convincere le aziende che tutto cambierà. I produttori per avere dei segnali credibili hanno bisogno di fatti e uno di questi potrebbe essere non chiedere alle aziende di entrare per cambiare le cose ma prima cambiare le cose e poi entrare. Oggi l'Oltrepo a Pavese è conosciuto solo ed unicamente per il primo prezzo. Non esiste nella fascia più alta però sarebbe bello che ci fosse un organo che stimolasse questa crescita qualitativa grazie ai controlli e grazie alla promozione. La proposta riguarda una piramide di prodotti in cui vengono messi al vertice dei prodotti premium, poi c'è una fascia di mezzo e una fascia base dove nella linea base si parla di una doc con un nome differente rispetto alla doc oltrepo a Pavese generica che oggi racchiude un po' tutto senza un vero o proprio criterio. Un altro punto importante è la zonazione e la terza cosa molto importante è un investimento importante sulla qualità del prodotto quindi consulenza enologica viticola e quello che riguarda una figura professionale all'interno del consorzio che accetti l'incarico solo dopo aver sposato questo progetto.